Bene, 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 con questa musica rock, oggi pomeriggio parliamo del corso di formazione di allunghavente dei che vede. Allora, siccome sto preparando il portale callori.it dove ci sarà un sacco di cose, di interviste di tutti i generi, ma ci sarà anche una scuola di formazione per pancchieri e non solo extension, ma anche, ma proprio ve ne racconterò più avanti. Adesso nel montaggio e nella preparazione dei contenuti non sono capitati dei video, dei video un po' datati di una decina di anni fa, quando stavo a Tenerife e giravo, iniziavo a girare i video per fare dei corsi di formazione online e guarda caso, dopo dieci anni è arrivata questa grande opportunità di questa tecnologia, adesso in diretta qui con voi, vi voglio raccontare la storia. Allora, questa è una storia che è per parrucchieri, poi se non sei parrucchiere puoi anche ascoltarlo perché possono essere delle informazioni importanti perché tu abbia un allungamento dei capelli e sono delle informazioni che il parrucchiere ha per farti bella e farti un bellissimo lavoro. Sono pubbliche e io adesso vorrei farvi vedere io da giove... Allora, togliamo la musica, ecco, perfetto. Sono io, sono a Tenerife, all'epoca dieci anni fa ancora ero biondissimo, adesso siamo rimasti solo con un pochino di barba, però è divertente questa cosa qua. Allora, io vi lascio alla visione di questo video un po' documentario che racconta un po' di storie sui capelli che sono quelle pillole per i giovani che vogliono imparare l'allungamento dei capelli perché allungamento dei capelli non è solamente attaccare a ciocche, ma è qualcosa di più profondo a livello psicologico, la motivazione della cliente e quindi gli operatori devono essere preparati per questo, ma ciancio le parole improvvisate. Però io oggi con Rigio sono molto contento perché le cose vanno benissimo, abbiamo intrapreso questa nuova modo di dialogare con le persone e io da parrucchiere lo racconto da parrucchiere, può essere utile per tutti o per nessuno. Allora, vi lascio a me giovane e guardate un po'... ...di costume, che cos'è l'evoluzione dell'allungamento dei capelli nei saloni dei parrucchieri ha sempre tagliato per creare forme e stili, gli allungamenti dei capelli è estendere per creare forme e stili, è come il giorno, la notte e viceversa. Adesso manderò un audio, ascoltatelo attentamente perché è molto importante, perché in audio, perché così ci concentriamo su determinate parole. Ci sentiamo alla fine del filmato. Ciao! Oggi con l'avvento della medicina moderna che dispone di una miriade di esami diagnostici mirati, i medici hanno smesso nelle loro visite l'osservazione dei capelli. Non per questo i capelli sono decaduti, anzi, sono diventati ancora più importanti. Oggi più che mai è opinione universalmente accettata. L'uomo che possiede una bella capigliatura sia più maschio, più virile di un uomo che di capelli ne possiede pochi. Un uomo con pochi capelli, secondo opinioni ancora oggi molto diffuse, è un essere dimesso, fragile, poco desiderabile al gentil sesso. Non parliamo poi delle donne. Secondo sondaggi sul cambiamento dei costumi in occidente, sono di gran lunga al primo posto nella scala dei desideri, dei canoni della bellezza. La maggioranza del sesso debole rinuncerebbe volentieri al trucco quotidiano in cambio di una capigliatura piena e splendente. Oggi la donna detiene indipendenza diretta sul lavoro. Oggi che non esistono quasi più ruoli femminili o maschili. L'importanza di una bella capigliatura emerge per tutti con la stessa importanza. Attualmente sul mercato non mancano affatto buoni prodotti e degli ottimi prodotti adatti a prendersi cura dei capelli. Paradossalmente manca chi sappia consigliare l'uso di questi prodotti in maniera professionale, quindi ci sembra senza altro che sia più utile spezzare una lancia a favore dei centri allungamento capelli. A proposito dei centri, si sentono in giro, pareri più discordanti che vanno dal diasimo più completo, alle doti più eccellenti, quanto detto, ci fa pensare ad un solo concetto professionalità sì, professionalità no. I centri allungamento capelli hanno senza alcun dubbio ottenuto in questi ultimi anni un indubbio successo di pubblico. Solo pochissimi centri allungamento capelli però possono vantare un successo di risultati. A questo punto è odio a una domanda, perché? La risposta è altrettanto banale, solo alcuni centri allungamento capelli possiedono un know-how e dal loro interno evidentemente operano dei professionisti, in altri no. Non ci si improvvisa esperti di allungamento capelli dall'oggi al domani. I centri allungamento capelli giusti offrono assistenza di carattere psicologico, oltre che tecnico, la persona che si vede i capelli corti, oca capelli fini e diradati, deve imparare a convivere con questo problema. Bene, avete ascoltato bene? Ci sono centri specializzati e centri non. Che cosa significa? Significa che attraverso le informazioni noi possiamo accrescere il nostro centro per migliorare il servizio. Nella prossima puntata vorrei parlare con voi dell'effetto cannuccia, così almeno per iniziare a vedere che tipo di differenza può esserci avendo qualche informazione in più. Sulla perdita delle ciocche di un allungamento di capelli. L'effetto cannuccia è un fenomeno fisico che interessa l'unghia delle ciocche, che chiameremo polibero, una miscela di vari elementi plastici, che proteggono i capelli riceventi nell'esecuzione della applicazione della ciocca figlia e si verifica durante il montaggio dell'allungamento capelli. Quando i capelli si fondono con il polimero, viene a formarsi una bolla d'aria determinata dal movimento delle dita, che dopo pochi lavaggi porterà alla perdita della ciocca. Per evitare questo fenomeno è bene che durante il montaggio l'operatore faccia molta attenzione nella manipolazione, specialmente al momento della fusione. Il polimero deve essere adeguatamente fluido in modo da fondersi completamente con i capelli naturali. Vi lascio alla spiegazione pratica di Francesco Callori. Ciao, oggi parliamo dell'effetto cannuccia. Nel mio tavolo ho un pochino di attrezzature per svelare questo segreto di come funzionano determinati fenomeni nell'ambito dell'allungamento capelli. Abbiamo un pettine, una spazzola, un paio di forbici, non da parrucchiere ma solo per tagliare della carta, un paio di fogli, un tubicino con delle cannucce e dei capelli. Capelli 100% indiani, lunghezza 40 centimetri, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Allora, iniziamo. L'effetto cannuccia è quell'aspetto che ti potrà dire quando tu credi di aver fatto una buona estensione, ma non è vero. Perché? Allora, noi abbiamo lunghiette che le chiameremo polimeri, eccole qua, ve le faccio vedere da vicino. Ok? Queste in particolare hanno il marchio estensore, anche perché è una qualità di capelli che nei corsi successivi colore extension creativo. Vi faremo vedere, io ed altri colleghi che stiamo lavorando su questo, a tempo reale, perché stiamo facendo questo video a tempo reale, giorno per giorno, stiamo costruendo un percorso educativo con le nuove tecnologie internet. Allora, benissimo, proseguiamo. Noi abbiamo questa ciocca, che io adesso vi farò vedere ancora più nel dettaglio, se riusciremo. qua, 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 avanti e indietro. Allora, noi abbiamo una ciocca che contiene... quanti capelli contiene una ciocca? Ve lo siete mai detto? Benissimo. Allora, una ciocca media contiene 270 capelli. Perché 270 capelli? Perché si è scoperto che la misura giusta per le ciocche a fusione per essere montate, perché se sono inferiori entra in un altro contesto, non più nell'allugamento dei capelli, ma nell'infoltimento dei capelli. Ma questo ne parliamo in un'altra puntata. Proseguendo con l'effetto che annuncia, noi avremo un polimetro che ha uno spessore di 1 o 2 micron, ok? È variabile, perché essendo materie plastiche potrebbe esserci non sempre uguale naturalmente, però il prodotto lega molto bene con i capelli. Se voi notate in trasparenza ci sono i capelli, ok? Perfetto. Allora, partendo da questo punto di vista che noi abbiamo tutti quei capelli rivolti tutti quanti in un verso, dobbiamo visualizzare con la nostra mente chiameremo figlia la ciocca dei capelli e madre quella della cliente. Naturalmente noi dovremmo far sposare i capelli in questa posizione qua, ok? Non in questa posizione qua, ma questa posizione qua. Per darvi un'idea ancora migliore, ho preparato delle cannucce che adesso io vi faccio vedere da vicino come dovrebbe venire internamente il polimero sui capelli. Vedete come si riavvolge su se stesso? Invece, delle volte succede spesso che, prendiamo uno dei fogli, abbiamo creato un effetto cannucce. Se noi ci mettiamo la mano a pochi lavaggi noi possiamo sentire l'aria pigiando in questo modo il polimero. Se non è stato fluidificato correttamente, possiamo rifluidificare. La cosa importante è il movimento delle mani. Ok? Allora, queste sono le mie mani. bruttine però sono. Ok. Allora, nel momento che io ho una ciocca madre in questa posizione, naturalmente non arrotolerò mai i capelli perché non potrà sposarsi bene. Cercherò di tenere sempre piatti, ok? per prendere la ciocca della cliente e appoggiarla sopra la ciocca figlia. Ok? Allora, nel momento che io mimo tutto con le mani, senza macchine, per il momento, poi più avanti potremo andare anche un po' più nel dettaglio. Allora, questa è la macchina che io vado a pigiare. Ok? La cosa importante è che in un'altra puntata parleremo la macchina, la temperatura, qual è la temperatura giusta. però proseguiamo con questo tutorial della ciocca a cannuccia. Allora, nel momento che io ho fluidificato la ciocca ho il movimento del dito, prendendolo in questo angolino, portando il polimero verso, in questo caso, verso destra e verso sinistra. Ok? Allora, prendiamo nel momento che noi abbiamo fluidificato la ciocca figlia che si apre ancora di più e si sposa perfettamente con i capelli della ricevente madre, noi prendiamo un lembo, lembo esteriore per portarlo sulla destra e riportarlo sulla sinistra. questo ci darà questa grande opportunità di realizzare questo. Allora, se io invece mi prendo la ciocca, me la rotolo e faccio solamente un movimento dal centro verso i ladri per creare in questo caso specifico una ciocca a cilindro perché ce n'è anche un altro modo ciocca piatta, ma ne parleremo su un altro tutorial. Ok? Benissimo. Allora, nel momento che io ho realizzato questo movimento corretto per visualizzare, noi quando iniziamo un lavoro dobbiamo visualizzare che cosa andiamo a fare quando non riusciamo a vedere un fenomeno che ci vuole un microscopio. Ok? Lo dobbiamo visualizzare che è il miglior modo. Allora, dobbiamo visualizzare nella nostra mente che i capelli si devono fluidificare così per creare una buona amalgama. invece, se noi andiamo a girare la ciocca mantenendo il polimono esterno e i capelli internamente nell'ambito del cerchio, come abbiamo notato all'inizio del video, abbiamo una diapositiva e spero di farla ritornare qua, un po' più nel dettaglio. Bene? Ok. Perfetto. E di conseguenza, io credo che per il momento, finiamo qui, mi raccomando, questi capelli sono di Estensore Group con i suoi corsi online che stiamo realizzando in diretta per voi. Naturalmente su internet potrete valutare la qualità del capello estensore Group, il nuovo capello naturalmente, perché questo ha le caratteristiche che si può colonare. E ne parliamo a una prossima puntata. Ciao, ci vediamo da Francesco Calvori, Tenerife. Allora, qui abbiamo, continuiamo con la rassegna e qui spiego altre cose, vi lascio all'ascolto. Io ho questo libro qui di fronte a me, è un libro che mi accompagna da 40 anni, che si chiama Il ramo d'oro di Fraser, magia e religione e tutte le credenze dell'uomo dalla notte dei tempi. Cosa significa? Che è uno strumento che ci può aiutare a interpretare e aiutare le persone a l'iniziazione dell'IA Station. Però prima di andare un pochino più a fondo, vi voglio far vedere questo video esplicativo del valore dei capelli nella storia. Ci vediamo tra un pochino. Il valore dei capelli nella storia. Da che mondo è mondo, sin dagli albori della civiltà i capelli sono sempre stati presi in grandissima considerazione dall'uomo e ancora di più dalla donna. Infatti nell'antico Egitto ai tempi dei faraoni, nelle tombe di importanti dame di corte si trovavano spesso anfore contenenti olio di lino mischiato con olio di oliva, ed anfore contenenti radice saponaria, che venivano usate per la bellezza e l'igiene dei capelli, mentre le donne del ceto sociale più modesto usavano la cenere di legna per lavarsi i capelli. Nell'antichità una bella, fonte regogliosa capigliatura significava che chi la possedeva era, con ogni probabilità un uomo forte, ben utrito e potente. Si pensi alla storia di Sansone alle prese con Davila. Sansone che da uomo fortissimo si vede diventare dopo un taglio di capelli fortunoso, un uomo dalla forza modesta, uno qualunque. Il potere dei capelli. Gli capelli erano considerati come la propagine esterna dell'anima, tant'è vero, venivano usati con grande abbondanza nelle pozioni magiche, che maghi e fattucchiere, che riuscivano a sottrarre con l'ingacco ai poveri uomini e donne che raggiravano. Così che nessuno abbandonava mai i suoi capelli, dopo che erano stati tagliati ed ognuno assumeda con gran serietà il compito di bruciarli sul fuoco vivi affinché non cadessero in mani poco amiche, perché allora si credeva che attraverso i capelli si potessero perpetrare malefici e prendersi il temotissimo malocchio. Col passare del tempo i capelli divennero un dono e un pegno di amore da elargire, legati in piccole ciocche da nastri multicolori, all'amato, che le custodiva sul suo cuore gelosamente fino alla morte, riposti in piccole splendide, preziose teche. Si dice che il duca di Bravante Guglielmo IV ne conservasse oltre 300. Nel 700 i capelli divennero da un punto di vista estetico materiale plastico per creare le più fantasiose ed elaborate acconciature. L'acconciatura doveva stupire i parrucchieri dell'epoca. Sfortunatamente il più delle volte il trattamento a cui venivano sottoposti i capelli privava le persone delle loro chione, e ciò poteva avvenire, anche in tenera età. Ed ecco l'arrivo delle parrucche, che tutte le persone bene dell'epoca indossavano. Così che, la povera gente vedeva i capelli sani perché i parruconi, così venivano chiamati i portatori di parrucca, continuassero a stupire i loro amici alle feste, che a quei tempi duravano giorni e giorni. Il 700 fu anche detto il secolo dei luni perché la ricerca scientifica prese impetuosamente piede. Per restare in tema di capelli, fu in quel periodo che venne inventato l'idrometro un apparecchio in grado di misurare l'umidità presente nell'atmosfera tramite i capelli. All'interno dell'apparecchio veniva inserita una piccola treccia di capelli. Questi capelli quando le condizioni ambientali davano al secco cedevano all'atmosfera parte dell'acqua che contenevano ed una lancetta si spostava da una parte. In questo modo era possibile misurare il grado di umidità presente nell'atmosfera. Quando pioveva viceversa accadeva il processo inverso. Intanto un secolo più tardi, i medici si erano trasformati da barbieri chirurghi in seri professionisti. Nelle visite a cui sottoponevano i loro pazienti non omettevano mai di sottoporre i capelli ad un attento esame e a quegli osservatori attenti, i capelli sapevano comunicare una serie di informazioni sulle fasi di ribubazione di alcune malattie, sull'evoluzione delle stesse, nelle fasi acute e della mancanza nell'organismo di sostanze indispensabili ad una corretta alimentazione. Che bel video, che belle storie noi abbiamo avuto in tutta la storia, un gioco di parole dai capelli dei parrucconi alle persone che sfoggiavano questo prolungamento del loro corpo. Riappoggiandomi a quello che avevamo detto Focanzi, il ramo d'oro ci aiuta a capire come noi dobbiamo muoverci, perché dietro l'allungamento dei capelli ci sono delle fasi che noi dobbiamo aiutare le persone a l'iniziazione dell'estension, gli aspetti psicologici, il linguaggio del corpo e la somatizzazione, che sono quattro aspetti fondamentali per aiutare la gente a sentire sua l'allungamento dei capelli. Perché voi dovete sapere che adesso ci sono parrucchieri, che tu vai, gli faccia un taglio per piacere e tu gli fai un taglio. Una volta non era così, perché tagliare i capelli è stato sempre un rito, un rito matriarcale, perché veniva utilizzato solamente dalle donne della famiglia naturalmente e questi capelli recisi naturalmente non si gettavano, si nascondevano, perché nell'immaginario collettivo dell'epoca i capelli sono una propaggine, un allungamento del nostro corpo e se qualcuno può prendere una parte ai nostri capelli può creare magia e religione. Magia e religione, in questo libro dove viene spiegato nel dettaglio in tutte le parti del mondo questo rito per tagliare i capelli è un strumento didattico che ci aiuterà a creare consapevolezza dei quattro fenomeni principali, è l'iniziazione, gli aspetti psicologici della persona, il linguaggio del corpo, perché voi dovete sapere che quando noi allunghiamo i capelli in due ore abbiamo un buco nel tempo, perché una persona con i pensieri, le parole, le azioni ripetute nel tempo, per esempio a spazzolarsi i capelli ogni mattina, il suo linguaggio del corpo cambia, si modifica piano piano senza essere consapevoli. Quando noi facciamo un allungamento di capelli in due ore, allunghiamo i capelli mediamente dai 3 ai 4 anni e abbiamo un buco, un buco di memoria. Molto semplice, non è drammatico naturalmente, però dobbiamo essere consapevoli per come guidare la cliente in questo percorso. Francesco Callori crede in un contatto continuo e personale tra il franchising e di suoi affiliati e si rivolge in particolare a coloro che hanno voglio di crescere e diventare leader nella loro zona in allungamenti capelli. Particolare attenzione è dedicata alla formazione sia dei titolari che dei collaboratori nell'intento di creare e sviluppare un forte spirito di gruppo. La continua assistenza personalizzata è la completezza della preparazione fornita che spazia delle tendenze moda alla estensioni evolute, tendono a formare esperti in allungamenti capelli. Si evolve ed allarga i suoi confini utilizzando il web come mezzo di diffusione, per rivelare ad un pubblico più ampio i segreti del mestiere di estendere i capelli. Le video lezioni proposte da Francesco Callori ai suoi abbonati sono un mix perfetto di insegnamento teorico e pratico sulle tecniche di base e sulle ultime tendenze in fatto di tagli e acconciature provenienti dal mondo della... Fantastico, fantastico. Mi sono quasi commosso, mi sono quasi commosso perché ricordi d'infanzia, quindi adesso noi abbiamo fatto questo bel video montato in diretta per farti vedere il nuovo modo che andremo a comunicare, tutto in remoto, è molto bello questo perché ci piace sposare molta tendenza, creatività. Per chi fosse interessato come per informazioni nel corso di allungamento dei capelli, il mio numero lo potete vedere, potete chiamarmi e vi darò tutte le informazioni possibili. Andate nel nuovo portale Callori.it dove troverete tante tante altre informazioni sulla moda, sulla tendenza e sulla creatività. Ciao ragazzi, ci vediamo alle prossime puntate.